Quando? Qualche tempo fa, proprio in questo periodo dell'anno, è morto un giovane musicista cristiano. Il suo amico lo ha salutato con parole commoventi in una iscrizione. Il titolo diceva perché proprio in primavera. Naturalmente si riferisce anche alla primavera della vita e anche questa primavera del calendario. Quando un uomo soffre e perde qualcuno che ama, la prospettiva della vita è diversa, soprattutto quando la morte è inaspettata. Ci sono molte domande che sono rivolte a Dio e alla vita. E la vita intorno a noi in questi giorni sta ricominciando a rifiorire. Lo sentiamo noi nel nostro spirito e nel nostro corpo perché è primavera. E' strano allora pensare alla morte. E questo è proprio strano. E' strano anche quello che noi celebriamo oggi. E' strano, umano, dire che celebriamo il venerdì santo. Una volta ci siamo aververgognati tutti da quella sensazione quando la catteriveria appare silenzionalmente in noi. Proprio una cosa malvagia quando accade a qualcuno qualcosa che non è comodo. Ma quando si tratta di qualcuno che amiamo è diverso. Allora noi soffriamo insieme a lui. anche noi perdiamo. Se qualcuno muore, una parte di noi sembra morire. Ma noi celebriamo proprio tutto quello che accade al nostro Maestro e Signore. Il tempo in qualche modo è volato velocemente. E il Verbo si fece carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Era come se la tenerezza del Natale e la festa della nascita fossero ieri. Solo pochi mesi fa. E poi siamo tornati di nuovo nella nostra quotidianità. E poi cosparsi di cena la testa per far ricordare che inizia un altro momento speciale, un altro periodo speciale. Infatti il Betlemme, il silenzio dell'amore di Nazareth, sembra così vicino che solo pochi giorni fa, nemmeno dieci, ci siamo di nuovo inginocchiati nella fede, nella parola. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria e è diventato uomo dalla Vergine di Maria. E abbiamo celebrato l'Annunciazione. E adesso? La notte. Tradimento. Tormento. Crocifissione e morte. E' proprio un po' strano. E' completamente strano. Ma noi siamo cristiani e dobbiamo essere persone un po' strane perché crediamo nell'umano del nostro Signore Maestro. Perché Lui parla della vita e dell'amore. È la vita. La vita include la sofferenza e la morte. La sua parola, la sua vita, il suo viaggio, il cammino non sono né favola né né una vuota consolazione. E per questo a volte non lo capiamo. E a volte difficilmente comprendiamo e accettiamo l'amore. Ma il suo amore è lo stesso, è sempre lo stesso, permanente nella gioia, nella vita, nel dolore, nella morte e nell'abbandono. Proprio perché è amore. È lo stesso amore perché non si tratta solo di emozioni. Le emozioni sono importanti e necessarie, ma passano. Riguarda la vita e la morte. Si tratta della sua vita e della sua morte. Questo riguarda la nostra vita e la nostra morte. In amore e nell'abbandono tutto diventa una cosa sola. È tutto trasformato. solo l'amore che arriva fino alla fine può farlo, fino alla sofferenza, fino alla morte. Noi non lo comprendiamo sempre, ma per questo siamo qui stasera. La ragione a volte si ferma, ma la vita e all'interiore lo sente. In qualche modo noi sappiamo che questo è strano. richiede un nuovo sguardo all'amore e alla bellezza. Quanto è bello il tuo volto, Signore. Quanto è bello il tuo viso velato di un velo di dolore. bello perché sotto i nostri sputti, i nostri peccati, il sangue, la violenza, brilla ancora il tuo amore e trasforma il nostro volto, il nostro cuore e il mondo interno. È iscritto sul tuo viso e sul tuo corpo con spine e chiodi ogni sofferenza, ogni lacrima, ogni grido dall'inizio del mondo ai nostri giorni ed è trasformato per sempre. Ora, sempre e per sempre. E non dobbiamo dimenticare un'altra cosa pensando all'eternità e alla permanenza nell'amore. Non dobbiamo dimenticare qualcun altro. E la madre è lì. Lo stesso è costante e anche il suo amore che accetta dall'albero di Magiatone di Betleme, dall'albero del Calvario. Il suo amore è lo stesso nel silenzio di Nazareth che nel rumore delle strade di Gerusalemme, quando lo trascinavano, lo picchiavano e gli sputtavano. Come è bello il tuo viso, Madre Maria, anche sevelato di dolore. Non abbiamo scritto il tuo nome nella notte della sua ultima cena dell'agonia di Gersemani, ma sappiamo che il tuo cuore bussava insieme al suo cuore. Tu hai sentito tutto, un bacio, un pugno, e l'hai seguito, l'hai seguito fino alla fine. Lo stesso vale per il tuo amore nel grido di Lore sul Calvario, quando l'hai ricevuto di nuovo il suo corpo. Adesso è più chiaro che il tuo eccomi sia fatto di me nel mistero del silenzio di Nazareth è in realtà una cosa sola con quello ecco tua madre. Perché il tuo cuore anche allora ha detto, eccomi, l'uomo ha alzato la mano a Dio e Dio lo ha permesso e lo permette ancora, lo consente ancora. Dio è diventato impotente, torturato e ucciso per far vivere l'uomo per sempre. Questo è il mio corpo che sarà dato per voi. Questo è il mio sangue, di nuova eterna alleanza che è stata versata per voi. Lui ce lo dice sempre, perché in realtà sta dicendo, questo è la mia ferita, il mio dolore, la mia vita per voi, tutto per voi. E dice a ciascuno di noi, personalmente, tutto per te, per te tutto, qui e ora, non forse, non lì, qualche volta, ma ora, sempre e per sempre. Perché è finito, perché è finito e tutto inizia. Perché noi persone strane crediamo in colui che ha detto, sto facendo tutto nuovo. Certanto, stasera noi vogliamo dire a Lui, ecco tutto a te, ecco a te ogni gioia, dolore, lacrima, tormento, mancanza di significato, rimosso, speranza e morte. Davanti alla tua croce e con l'orrore della morte, crediamo nell'amore e nella vita, ora, sempre e per sempre. Signore e Maestro, Figlio del Dio vivente, crocifisso, ucciso, vivo e immortale, abbi pietà di noi.